Questi finalisti hanno tutti veramente un carattere, hanno uno stile. Nessuno è una coppia dell'altro e nessuno è una coppia di nessuno. Secondo me questa manifestazione segna un nuovo passo. Questa è l'espressione del corpo humana, non solo a here. E quando si parla di chiama, come si parla di chiama, non solo a here, allora, baby, tu dovessi fare ogni parte di chiama. Grazie a tutti Per un'eleganza senza stagione Esme V Siamo molto contenti certamente di aver vinto Abbiamo lavorato tantissimo per questo e è un grande piacere In un mixage completamente libero Uno sportswear, come ha definito Susie Mankes Fatto di praticità e ricerca, Arthur Alves Subito in primo tentativo sono entrato come finalista E ora questo è quasi troppo Però ancora ancora riesco a reggerlo Grazie a tutti Per gli accessori, Paul Andrew I'm so overwhelmed It's such an honor to have won Who is on next for the accessories division I'm a little bit speechless right now